Isaia, uno! Che bello, arrivano i romani! Non sono esseri umani. Dai Giulia, cosa vieni a fare? Ti ho preparato una nuova serie di prove. Sì, ci divertiremo un mondo. Asterix, il più astuto. E Obelix. Che cosa desideri, mio bel guerriero? Mangiare. Dovranno fare meglio di Ercole. E che è questa enigma? Le dodici fatiche di Asterix. Questa sera 21.05, Italia 1.